E dunque ci sono degli aggiornamenti su quanto sta accadendo a Parigi nella cattedrale di Notre Dame. Vi abbiamo dato notizia di un incendio in corso nella cattedrale. Andiamo a vedere quanto sta emergendo, soprattutto dal web, con il nostro Diego Giuliani al touchscreen. A te Diego. Grazie Valentina. Cominciano ad arrivare le prime spettacolari immagini. Il web è letteralmente invaso. Possiamo vedere già da quanto affolla la rete in questo momento le spettacolari immagini della cattedrale di Notre Dame avvolta dal fumo. Si moltiplicano le immagini e i video postati dagli internauti. Qui vediamo anche una serie di fotografie che ritraggono da diverse angolature. Vediamo qui la cattedrale di Notre Dame completamente avvolta da questo denso fumo. Immagini che si ripetono. Ecco, è tutto quanto sappiamo fino a questo momento. Sui media, soprattutto Franceschi, rimbalzano gli interrogativi a cui però fino a questo momento ancora non si è riuscito a dare risposta. Per il momento guardate queste probabilmente le immagini in assoluto più spettacolari di cui disponiamo. Vediamo le fiamme, si vedono avvolgere proprio il corpo della cattedrale. Speriamo presto di poter tornare ad aggiornarvi con ulteriori dettagli. Sicuramente ulteriori e maggiori informazioni emergeranno nei prossimi minuti. Ci lasciamo con queste immagini davvero impressionanti del fuoco che avvolge. Veramente vediamo qui il corpo della cattedrale di Notre Dame. Per il momento è tutto. Restituisco la linea a te Valentina. A breve per ulteriori aggiornamenti su quanto sta accadendo a Parigi. Grazie, grazie Diego. Le agenzie francesi stanno battendo alcuni aggiornamenti. Intanto andiamo in diretta con le immagini che arrivano dalla televisione privata francese, la BFM TV. Come vedete fiamme altissime si stanno levando proprio nel cuore di Parigi. Questa colonna di fumo nero e il rosso, evidentemente delle fiamme. Moltissimi curiosi e cronisti che stanno documentando la scena tenuti a debita a distanza. Eccola qui la nube densa di fumo nel cuore della capitale francese. Secondo le agenzie che stanno battendo i primi dettagli, l'incendio si sarebbe sviluppato all'interno della cattedrale, potenzialmente legato ai lavori di restauro dell'edificio. Questo almeno quanto si apprende dai pompieri. Il fuoco, la cui gravità è ancora da determinare, si è sviluppato nella parte alta della cattedrale. Vediamo se abbiamo a disposizione la traduzione per ascoltare quanto sta dicendo BFM TV. Ci rivediamo prestissimo per avere le ultime informazioni. Comunque in questo momento daremo un aggiornamento. Comunque è un momento arrivato per Macron di dire che è una situazione paradossale, perché sappiamo perfettamente che siamo arrivati ad un momento cruciale. Però ci chiediamo che cosa dirà Macron questa sera? Bene, ha già preso la parola due volte e ha già parlato, ma ha detto che comprende la rabbia, che la rabbia aveva una sua ragione d'essere. Questo ovviamente sta parlando di altro, questa è una serata importante, parlerà Macron. Il portavoce di Notre Dame ha specificato che l'incendio è iniziato alle 16.50. Siamo in grado di collegarci con la nostra corrispondente da Parigi, Man Sabah. Iman, che cosa ci puoi dire? Che cosa sta succedendo? Sì, buonasera. Naturalmente la notizia è arrivata anche qui a Parigi in redazione da pochi minuti. Tutti gli occhi qui in Francia erano puntati sul discorso che dovrebbe pronunciare alle 20. Emmanuel Macron ha reti unificate, un discorso di 20 minuti. Ma poi queste immagini che vedete in questo momento della cattedrale Notre Dame, una delle più famose cattedrale al mondo, che brucia. Brucia soprattutto il tetto della cattedrale. L'incendio, come dicevi, ha detto poco fa, il parroco della cattedrale è iniziato intorno alle 16.50. Poi le fiamme si sono prorogate in altre zone della cattedrale. Comunque sul posto sono arrivati i pompieri, sono al lavoro. Non sappiamo ancora qual è l'origine di questo incendio, ma naturalmente vi terremo aggiornati appena abbiamo ulteriori dettagli. Per ora è tutto da Parigi, linea a voi. Grazie, grazie Eman. Ovviamente c'è grande apprensione. Lo ricordiamo, uno dei monumenti più visitati al mondo, il monumento storico più visitato d'Europa. E come vedete è davvero inquietante il fatto che stia andando a fuoco in questo modo, nel cuore di Parigi. Fiamme altissime, questa intensa nube di fumo che parte proprio dal tetto della cattedrale Notre-Dame di Parigi. Siamo nel cuore della capitale parigina. Ancora non è chiaro che cosa sia successo. Potrebbe l'incendio essersi originato da lavori di restauro che erano in corso all'interno della cattedrale. Vediamo, in effetti ci sono anche delle impalcature ben visibili. E dunque torneremo a Parigi per aggiornarvi su quanto sta succedendo in una Francia che era in piena attesa, come ci ricordava la nostra corrispondente, di un importante discorso da parte del Presidente Macron.